Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Per quella ammirabile prontezza con cui voi, o glorioso San Matteo, abbandonaste l'impiego, la casa e la famiglia per conformarvi agli inviti di Gesù Cristo, ottenete a noi tutti la grazia di approfittare sempre con giubilo di tutte le divine ispirazioni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per quella ammirabile umiltà con cui voi, o glorioso San Matteo, scrivendo prima da ogni altro il Vangelo di Gesù Cristo, non vi qualificaste altrimenti che con il nome di Pubblicano impetrate a noi tutti la grazia divina e tutto quello che serve a conservarcela. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O San Matteo, apostolo ed evangelista, che sei tanto potente presso Dio a favore del suo popolo pellegrino sulla terra, soccorrici nei nostri bisogni spirituali e temporali. Le numerose grazie che i tuoi devoti in ogni tempo e in ogni luogo hanno ottenuto e piamente raffigurato nel tuo santuario, ci fanno sperare che anche a noi concederai la tua protezione. Chiedi per noi la grazia di ascoltare la parola di Gesù che tu hai coraggiosamente annunziato, fedelmente trascritta nel tuo Vangelo e generosamente testimoniata con il sangue. Ottienici l'assistenza divina contro i pericoli che minacciano la salute dell'anima e l'integrità del corpo, liberandoci da ogni male fisico e spirituale. Intercedi per noi affinché possiamo condurre una vita serena e benefica in questo mondo ed ottenere la salvezza dell'anima nell'eternità. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.